180 questo signore dammi la mia vita di più non chiedo al subito silenzio che mi segue nei mattini dai tu la voce e modula le mie cadenze e plasma la mia caduca argilla io voglio la mia vita tutta intera vissuta in ogni pausa anche se poi vorrò di me pentirmi e del mio giorno ma ch'io lo viva ogni momento mutami io sia materia seme e vita e il divenire mi sia destino eterno aldo perché hai detto il divenire mi sia destino eterno visto che adesso sai che il divenire non esiste ma tutto è eterno presente perché quando ho scritto questa poesia non avevo ancora letto e pubblicato l'insegnamento dei maestri immateriali